Gentili telespettatori, buona giornata. In questo video si riporta una notizia che è su tutti i giornali. Quindi l'intento di questo video è semplicemente riportare una notizia. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, quindi parliamo della Puglia, si chiama Ventola, è indagato per corruzione elettorale. Corre alle europee subito dopo Meloni, quindi in ticket con Meloni. Meloni è capolista, che poi non si presenta ovviamente alle europee, cioè non è che non si presenta, quando vincerà non va in Europa, quindi c'è il secondo, che è il vero capolista, che è in ticket con Meloni, che è questo Ventola, che arriva la notizia improvvisa delle indagini per corruzione elettorale. Lui, l'esponente politico di Fratelli d'Italia, dice le indagini innescate dalle denunce di Andrea Silvestri, ex assessore regionale, condannato per reati contro la pubblica amministrazione. La replica è fatti di vent'anni fa. Il punto è che se c'è qualcuno che ti denuncia, poi tu vieni indagato. Questa è una cosa quasi automatica, quindi se c'è qualcuno che ti denuncia per qualsiasi cosa, tu poi vieni indagato, ti comunicano che sei indagato, che stanno facendo delle indagini. Quindi l'essere indagato non è nessun tipo di condanna, ma significa che c'è un giudice che sta indagando perché ha ricevuto una denuncia. Quindi le indagini non sono una condanna, non è un processo, questo è per essere chiari. Lui, Francesco Vendola, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale pugliese, è indagato dalla procura di Trani per associazioni a delinquere e corruzione elettorale. Insomma, è una bella accusa da parte di chi ha sporto questa denuncia. Il fatto è stato reso noto dall'avvocato Andrea Silvestri, ex assessore regionale del CCD della giunta di Raffaele Fitto nei primi anni 2000, oggi aderente a Più Europa. Sia Ventola che Silvestri sono residenti a Canosa e il capogruppo di Fratelli d'Italia ne è stato anche sindaco in passato. Un centro, una cittadina che ha 27.000 abitanti, praticamente in provincia di Andrea, Trani, Barletta. Ecco, tutto viene e succede tra le vicende del comune. Ventola sostiene che la maggioranza del sindaco Silvestri è all'opposizione. Allora, che cosa è successa? Il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione a febbraio riceve un avviso di proroga delle indagini. Sostiene che l'indagine è stata aperta dalla procura, ma su denuncia dell'entourage del medesimo Silvestri. Come vi dicevo, c'è qualcuno che ti denuncia e la procura, credo sempre, non ne sono sicuro, apre delle indagini, che poi il giudice, il GIP, giudice indagini preliminari, dovrà decidere se archiviare o passare tutto al GUP, giudice udienze preliminari. Anche il GUP dovrà rileggere tutto e decidere se procedere o archiviare tutto. Se si procede, a quel punto si apre un processo. Quindi ci sono diversi step. Proprio da quella iniziativa, sfiega a ventola, è stato aperto il fascicolo presso la procura di Trani, che sta indagando sulla veridicità e rilevanza di quanto denunciato. Come vi dicevo, il GIP deve capire se la denuncia è qualcosa di vero, di solido, oppure è tutto da archiviare perché i fatti non sussistono o non si intravede un reato. Ecco, il capogruppo Meluniano aggiunge un dettaglio che va tenuto in considerazione per la comprensione della vicenda. Dice proprio questo. Proprio colui che, con toni da tribuno, ha denunciato la presunta corruzione elettorale è un politico il cui curriculum giudiziario va dall'Associazione per delinquere al peculato, alla falsità materiale, alla falsità ideologica, alla truffa, reati per i quali è stato arrestato e per alcuni capi di imputazione è anche condannato. Questo dice Ventola su chi lo ha denunciato. Lo stesso Ventola, in Regione, parlando del bilancio della Regione, nel dicembre scorso aveva proposto con emendamento che fosse sospeso il trattamento di vitalizio agli ex consiglieri regionali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione e che è la condizione in cui versa Silvestri, che lo aveva poi denunciato. L'emendamento non è passato, ma fa capire lo scontro che c'è comunque fra i due. Poi c'è anche una denuncia per Calunnia. Che cosa dice la denuncia per Calunnia? Vediamo se la troviamo. Ok, Ventola denuncia il suo avversario per Calunnia. Dice Rilevo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia, che per la seconda volta Andrea Silvestri ha tenuto una conferenza stampa con l'intento di gettare fango in modo calunnioso sulla mia persona e sull'amministrazione comunale di Canosa. Infatti già qualche mese fa convocò una conferenza stampa con lo scopo di dare pubblicità all'inchiesta innescata dal suo entourage. Abbiamo denunciato Silvestri per quelle dichiarazioni calunniose false e vogliamo ora attentamente anche le più recenti propalazioni per riservare il loro analogo trattamento giudiziario. E poi Silvestri replica a Ventola che lo denuncia per Calunnia. Silvestri a proposito delle condanne riportate sottolinea che sono procedimenti di più di vent'anni fa per i quali ho patteggiato. Ora sono un cittadino libero, professionista e le mie questioni con la giustizia le ho risolte all'epoca. E Ventola, in quanto personaggio pubblico, candidato alle europee, che deve rispondere del suo operato. Questo è quello che è successo. L'Italia è un paese dove si denuncia con una facilità incredibile querele, denunce, controdenunce, controquerele. Insomma, una volta io vi dicevo che l'Italia era un paese fondato sul mutuo del parlamentare. Oggi vi posso sinceramente dire che l'Italia è un paese fondato sulla querela dell'altrui personaggio. Naturalmente se voi andate a querelare, ricevono la querela, aprono le indagini, devono, credo, aprire le indagini per forza e poi capire se andare avanti o no. Molte cose vengono archiviate quasi automaticamente, perché se i giudici dovessero dar retta a tutte le querele che ci sono in Italia non se ne uscirebbe più. Quindi c'è una scrematura iniziale molto forte. Quando il giudice prende le carte dice ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Archiviamo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti di là su Teleitalia. Grazie a tutti. Arrivederci a presto.